ola ragazzi ciao a tutti le nicchie raga bentornati su super market simulator come sempre raga inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione se può interessarvi trovate il link che vi permette di comprare tanti giochi scondati allora dunque si riprende questo pacco me l'avete mollato per terra disgraziati dove caspita va messo ma sta a finire tutto allora questo era uno scaffale che dovevo sistemare meglio ok va qua accidenti mi state consumando tutto non restavo più niente come va a fare qua madonna tutto sta a finire in mutanda mi è stata lasciando allora raga dunque vediamo che possiamo fare ma quanto ne ho di succo d'arancia così tanto e non sono sicuro se mi conviene tenere tutti queste tutte queste bevande sinceramente vabbè man mano che man mano che svuotiamo man mano che abbiamo bisogno di più scaffali vediamo magari cosa tenere diciamo meno abbondantemente allora che fa apriamo un altro pacco per terra va apriamo tanto siete in tre quindi allora intanto facciamo sta spesa a posto sto pacco qua che cacchia pammigiano reggiano pammigiano per terra obbiate ma spacco pammigiano questo è buono non si mette per terra dove si mette pammigiano 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 allora siamo aperti accendiamo le luci ok allora com'è la situazione nei prodotti penso che prezzi l'avevamo già sistemati presumo che erano già a posto allora che si può fare oggi di bello ovviamente se c'erano i soldi si può fare qualcosa di bello ma senza soldi prossima licenza 2000 euro formaggio caffè acqua in bottiglia 2008 salsa piccante la birra hummus si però acqua roba costa però a 3.500 5.600 5.600 un altro roba c'è ancora quanto 65.000 livello 90 vino whisky birra birra e per vendere un poco di birra e per vendere cibo per gatti devo spendere 22.000 euro ma che siete pazzi ma fammi capì libro libro ammazza gastosi ma leggi sul libro caro e allora tanto comunque le uniche licenze che posso sbloccare sono queste due allora qui ci abbiamo sassa piccante gelato a cioccolato mi ricordo una canzone gelato a cioccolato dolce un po salato un po vecchiotta la canzone come a me allora salve buongiorno 97 euro grazie rivederla torna presto con tanti soldi e ne abbiamo proprio bisogno allora quindi comunque però è bello e bella quella licenza peccato che costa una barca di soldi 2008 però che shop maionese pizza mi piace questa licenza mi piace più di questa perché questa è acqua e ce l'ho già caffè ce l'ho già formaggio ce l'ho già che caspita mi dai la stessa roba di nuovo lo zucchero ce l'ho il tè ce l'ho le uova ce l'ho a che serve sta licenza che roba che ho già perché tutti sti prodotti per niente cioè zucchero zucchero a velo che ce l'abbiamo già c'è ma carta igienica e ce l'abbiamo già e pastiglie palamatrice ce l'ho già canteggina l'avendo già perché c'è la stessa cosa più volte perché così uno si confonde oh no raga perché c'è la stessa cosa più e più volte oh ma dove caspita eri che non t'ho visto io dico sul serio ma cioè ma la stessa roba da sbloccare che senso ha grazie signore grazie che fa la spesa da me no ma veramente raga io sinceramente cioè io voglio sbloccare roba che non ho ma la roba che ho già sa possono tenere giusto meno male che non c'è l'obbligo di sbloccare tutto ma sinceramente andare a sbloccare quello che ho già ma non mi va proprio questo non ce l'ho bastoncino salsa piccante gelato che c'ha tutta roba che erano ma quella roba che bene o male ho già che mi metto a sbloccare 50 cose uguali ecco a lei buongiorno signore allora grazie mille precisi siamo a 2000 euro che ci aveva ancora da da togliermi debito la banca no la banca non ho debiti e posso farmi i prestiti da 5000 quindi volendo potrei addirittura farmi un prestito per sbloccare la roba che non ha molto senso forse ah però qua dentro quanto mi costa allargare ok la licenza è bellissima ma allargarmi costa 2006 espandi 2006 che miseria si fa caro mo eh 2006 e 2008 so 5000 euro più la roba da comprare ci vogliono 10 mila euro per fare un upgrade come si deve ci vogliono un po di un pochino dei soldi per fare un bel upgrade comunque bello avere tre avere tre magazzinieri mose corre a non ce n'è più problemi poi due cassieri vanno bene io mi metto puro un po alla cassa perché è una necessità dato che devo arrivare a 900 vendite fatte manualmente se voglio ma perché quattro in fila lì quando qua siamo due liberi bobo all'hp e niente che stavo a dire insomma ci vuole se voglio sbloccare il terzo cassiere signora venga che ho ma non ho capito ma quello che ma quella roba va a regala ma non ho capito ma che fa quel cassiere ma che ma c'è anche c'è un cassero incoglionito che fa pagare di meno perché tutti vanno da lui c'è una fila mostruosa e io e quello non famo niente quello non me la racconta giusta eh oh zio ma ma che regala roba questo ma che fa affetto speciali questo che fa non lo so perché tutti da lui c'è una fila che non finisce mai ma che roba meno male c'è uno che se ne va qua non lo so ma per me quello per me quello signora eh salve eh veramente ma che razza di fila che c'è là ma io ma io ma io ma io non lo so ma io buh quello non sta a fare niente quello 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 c'è betanto io vengo pagato pure non faccio niente ma quello non me la racconta giusto a me allora 61 e 91 siamo a 3500 euro oh quasi quasi io mi allargo va questa è una cosa che posso fare easy bam fatto dov'è qua ok signori ce l'abbiamo più largo è il locale ovviamente beh ci potrei mettere per ora la mia cassa lì no ci dovevo mettere anche una lampadina prima no prima ci dovevo mettere due lampadine non sapete niente lì sotto comunque qua ci posso mettere non lo so fosse scaffo se me gli scaffali addia verità forse è meglio gli scaffali la cassa la metto cioè che la sotto allora signora paga 735 quella che piace a me di signora o signorina non lo so va bene arrivederla allora abbiamo fatto l'upgrade e qui non lo so mi sa che è meglio che ci metto gli scaffali meglio sì è meglio perché la cassa mi trovo un po stretto magari la cassa potrei metterla qui non lo so sinceramente vabbè comunque comunque qualcosa ce la mettiamo di sicuro lì sotto chi è o un'altra bellissima vedi le donne vengono da me allora 72 e 45 beh andate una bella giornata abbiamo fatto 3 4 mila euro chiudiamo e abbiamo fatto 3 3 alla torta cereali farina torta cereali farina torta cereali farina torta cereali farina dov'è l'altra è l'altra è questa torta e cereali questi sì ora mi manca la torta che deve essere questo no forse questo sì 2 e 10 ok allora fino a qua ci siamo e devo comprare di sicuro due lampade intanto accendiamo devo comprare due lampadine a fatture quelle ai mesi devono pagare sempre mercato arredamento due lampadine scaffali però no allora intanto mi faccio portare due lampadine che le mettiamo la sotto almeno una direi alla una è bella abbiamo la bella altra che farà metta mettiamo pure ok allora beh che ci metto lì alla fine non so come sistemare le cose non lo so ormai sono messo un po così non mi va di spostare mezzo mondo boh non lo so ci metti i scaffali e basta e via no come li metto questi scaffali però allora se li metto così o li metto così se è meglio così e che quello è tutto uno scaffale di prodotti della casa e questo invece è tutto cibo e se no facciamo una cosa togliamo questi potrei metterli qua eh ma lì uno scaffale ce lo vorrei mettere comunque lo stava di arroba da dove arriva vediamo va bene comunque non lo so ragà non lo so non lo so metto così di entrare ci entra benissimo e qua mi avanza un botto di spazio cioè spazio avanza a prescindere a diaverità ma però è però ci stanno bene questi messi qua cioè in teoria ci sta bene un po tutto messo qua eh non ne ho la più palli dedica ragazzi vi giuro oh ma sai che questo non ci entra e allora è un bel problema e allora è un bel problema uccidente gira e rigira non me sta soddisfacendo forse è meglio così almeno ora qua ci posso mettere uno scaffale ah no però sai cosa lì ci sta bene proprio questo perché visto che là c'è tutta la roba della casa ok c'è anche roba che non è della casa ma che devo fare dove va a metto sta roba io non lo so questo quasi quasi lo piazzo qua e qui però ancora ci vanno tranquillamente due scaffali eeeh ma quasi quasi questo lo piazzo qua e se questo lo piazzo qua tecnicamente potrei metterli anche più stretti eh vediamo vediamo mmm allora praticamente adesso io ho un po' di spazio per altri due scaffali destra sinistra eeeh eeeh boh beh si ma qualcosa ce la devo mettere eeeh non è male eh oh va bene ho sfruttato al meglio lo spazio che c'è un po' di spazio qua per passare no ma va bene così qui mi avanza tanto di quello spazio che ci posso mettere uuuuh altri parecchi scafali e oltretutto c'è pure spazio qua mo abbiamo spazio un po' dappertutto per ora direi di lasciare così eeeh la cassa e la cassa se la metto qua per ora ma io direi che ci può stare e abbiamo un mucchio di spazio libero al centro ma tanto mancano i soldi per prendere licenze quindi non ci posso mettere niente apriamo e ci metto al centro non lo so è difficile eeeh è difficile è difficile va bene per ora va bene così dai tanto devo prima sbloccare una licenza prendere scaffali e poi quando c'ho gli scaffali poi decido come metterli da capo per ora per ora va bene così a qui non mi dispiace è che tecnicamente vorrei fare una sezione tutta prodotti della casa però il fatto è che a di la verità prodotti della casa c'ho solo uno scaffale non è che c'ho quattro cinque sei otto scaffali prodotti della casa certo in futuro sbloccandoli visto che c'è una scelta infinita di canteggine e roba varia a quel punto si può anche fare un'intera sezione ma al momento è impossibile dedicare una stanza intera per uno scaffale non ha senso quindi per ora mi sa tanto che mi sono incastrato eh la segnala di qua passa io non ci passo proprio di qua però la gente che mi passa da dietro della cassa e vabbè 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 dai l'importante è che abbiamo allargato abbiamo più spazio a prescindere a proposito ma io ancora quante vendite devo fare perché prima o poi giustamente voglio metterci il tizio ma il tizio eeeh do sta assumere livello 30 ci sono eh devo fare ancora un botto di vendite devo fare ancora due 285 vendite io per assumere il terzo cassiere perché sta sta schifezza del roba perché non me lo fate assumere e basta e la vita reale io assumo punto me che mi metto qua a vendere duemila volte da solo allora la signora paga cacca la carta a posto allora debiti non ne abbiamo debiti non ne abbiamo se vogliamo sbloccare la licenza non ci manca neanche tanto sono mille euro che mancano per la prossima licenza però gli scaffali mancano potrei anche già cominciare a comprarli gli scaffali a diaverità che me frega i soldi ce li ho potrei comprare sì perché no mi porta avanti è la cosa più economica che posso fare arrivo ah per te arrivo tutti i momenti eh? mi dissocio non capite male allora 65 e 40 ora c'ho la fila io c'ho la fila uè ah 9 centesimi porca miseria così piccolo non l'avevo notato 48 signor e 65 ammazzalo c'ho la fila 138 e 09 tu se lo paga caccola? alla c'è una cosa che mi preoccupa ho paura che mi finisce quella roba che costa un botto dei soldi e che non manca tanto che finisce per davvero la miseria non c'è più niente qua cominciamo a comprare sta roba ok che è meglio di niente ecco la roba costosa che vi dicevo mosi che partono mosi che partono i soldi c'è un cliente che mi aspetta allora va bene acquista arrivo e dovevo comprare quella roba stava a finire 98 e 15 ok sto spendendo chiaramente un botto dei soldi che le cose me le faccio autopiazzare però ne vale la pena allora dunque intanto mi pare che qua stiamo cominciando sempre più a asfoltire diciamo no ok man mano mi sto liberando di questi allora quindi arredamento due scaffali frigo per ora non lo prendo perché non ne so sicuro che mi serve quasi quasi prendo anche un scaffale normale come si chiama piccolo scaffale come che aspetta si chiama un altro lo prendo e un pallet ok vai un qualcosina in più scaffalino in più questo in teoria dovrei metterlo proprio qua arrivo ammazzo in tre secondi ce n'è tre allora 43 e 60 30 centesimi per lei signore buonasera grazie che ha fatto la spesa da noi signore 44 e 70 che non scrive arriva l'altra no allora dunque dovrei sì che ho vado dove arrivate che non ci vado dove sei uscita te porca miseria che ho dato un'occhiata prima di andarmene 14 41 allora arrivo ok scaffalino in più oggi bombolo non si è visto venticello oggi non l'ho visto allora 38 e 30 vai che devo farmi queste 300 vendite allora per ora questi li ripiazzo qua intanto abbiamo uno scaffalino in più uno scaffale in più è sempre comodo a vedere potrei anche tenerlo qua questo signora 74 arrivederla allora quindi ci abbiamo vediamo ah il pallet questo seppur vuoto è buono più avanti no sarà vuoto ma poi ci mettiamo qualcosa e vabbè magari per ora li metto qua questi scaffali per non lasciarli fuori allora perché li voglio già piazzare ma devo spostare la cassa e quasi quasi la cassa la rimetto dove era prima ok ok e questo buh magari lo metto qua per ora allora la cassa la cassa potrei metterla tipo così al centro totale per ora ok quindi ci abbiamo uno scaffale in più anzi due scaffali in più un pallet in più che qualcosina qui di sicuro da mettere ce la troverò E in più abbiamo anche uno scaffale in più E non solo Questo è anche tecnicamente Vuoto Difatti questo qua tecnicamente Dovrei Questa è tutta roba Che dovrei spostare Perché in realtà l'avevo messa qua Per altri Cioè perché non sapevo dove metterla Oh ma c'è poca luce qua dentro Ma ci devo metterla una lampadina in più Porca miseria C'è troppa poca luce Eh ci vorrebbe proprio una lampadina Non è che ce n'è una in più qua no Forse questa Se magari la piazziamo Qua Allora Questo sono uova E qua devo fare anche acquisti Che mo sta cominciando a finire Questa è tutta roba che io Ecco devo spostare E quello è uno scaffale Che devo tenere Vuoto Per i prodotti futuri Solo che Avevo messo le cose qui Perché Perché avevo fatto già troppo il pieno Allora Questo Va qua Quindi questo si eleva Questo è Qua Rimane solo L'olio E l'olio Va qua Ok così abbiamo Due scaffali Vuoti Per i prodotti Futuri Ora Dobbiamo preparare La lista della spesa Però del giorno Successivo Prepariamo Un po' di spesa Ok Penso che non mi sta mancando niente In realtà manca sempre qualcosa Ok dai Allora c'è una bella lista qua Di cose da comprare Dunque concludiamo la giornata Prodotti costosi Boh E' salito il tonno E qual'è il tonno mo? Tonno Sette E Ottantacinque Ok Facciamo subito la spesa Sono mille Quante? Boh Va beh Fatto E poi Che mi manca 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 Boh No va bene Va bene Le scaffali ce le abbiamo Ce abbiamo tutto E ci vorranno poi Quei due Ci vogliono A parte i 2800 euro Della licenza Ci vuole anche i soldi Per comprare poi quella merce Che cos'è quello? Ah questo è avanzato Ok Qui ho dimenticato qualcosa Accidenti Questo è avanzato Non è che forse Da mettere qua Da qualche parte No già c'è Vabbè Piazziamolo qua Allora cosa che ho dimenticato Praticamente finisce sempre tutto Sì ma c'era un'altra cosa Non me sto ricordando Cosa mancava? Ah qua 800 euro Ah faccio Allora Gestione Fatture Oh alla fine Non abbiamo mica tanti soldi Apriamo Allora qui non lo so Cosa ci posso mettere di bello Tecnicamente Tecnicamente Lì ci potrei mettere Tipo l'acqua Perché Dopo sbloccheremo Per l'appunto Cose che vanno nel frigo E invece di comprare il frigo Se qualcosina dal frigo La tolgo E la metto nel pallet Non è meglio Di solito Tipo l'acqua È quella che si consuma di più E l'acqua può stare fuori dal frigo Allora l'acqua dovrebbe essere questa No? Oh l'acqua ci sta Vedete? E in teoria Ce ne posso mettere un botto Così oltretutto Mi li Ecco lo fa pure lui Così oltretutto Io mi libero pure Mi libero pure Lo scaffale dall'acqua Non la tengo Non ho bisogno Ce ne va Ce ne va un botto di acqua qua Ah ma sto scaffale Al contrario E' fantastico Vanno a riempire però Facciamo così La merce non me la faccio portare Un attimo 55 Allora Prodotti Non me la faccio piazzare L'acqua Compro Dieci pacchi Dieci Dieci di acqua Io penso che qua Dieci ci entrano Accomi che deve stare nel frigo Non per forza 30 centesimi a lei Signora Buona giornata Eccomi Allora 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 Ah voglio mettere acqua Arrivo Ma che è l'unica cassa aperta Io Non ho capito Dove è la voglia Oh Non compro acqua per un po' Signore paga 54 e 45 Signore paga in contanti 80 centesimi di resto a lei Questa quanta ce ne va ancora Mi sa un altro ripiano No non ce ne va più Ok allora la vado a ripiazzare un attimo qua La signore paga 22 e 20 Allora io vorrei fare una cosa Questa acqua da qua la voglio togliere Qua lasciamo libero Che poi in futuro ci mettiamo i prodotti nuovi Quindi 189 Perché 189 Non pensavo che dovesse un numero pari Più che dispari Ma comunque Allora un euro E 10 Signora con la carta 56 e 25 Quindi lasciamo un buco aperto Poi ci sarà Tipo potrei prendere anche uno scaffale per la coca cola Cioè tutto può stare fuori Può stare tutto fuori Oh bombolo eccolo è avvenuto Ciao buona giornata 20 c'è Eh capite no raga E' una buona idea E' una magnifica idea Così Che staffa questo Così Insomma Non devo comprare un altro frigo Ok lo scaffale Non è che me lo regalano il pallet Però costa meno del frigo il pallet Il pallet costa meno del frigo E c'ha una grande capacità di Cioè caspita Cioè caspita no 190 pezzi Ah ovviamente a proposito Lo scaffale è una mod Cioè il pallet è una mod Il pallet è una mod Vi ricordo che in descrizione c'è la lista delle mod che usa in questo gioco Eh raga Nel caso giustamente ve lo chiedete Allora Alla grande Alla grande Questa nuova sezione Comunque dai si sta Questa sezione nuova sta risultando molto utile Allora 6 del pomeriggio Tra poco si chiude Buono Veramente un altro Quasi quasi lo piglio sul serio Un altro scaffale Un altro pallet Arredamento Pallet Costa 125 un pallet È tornato venticello Ah lì non ci sta Eh sì Il problema Beh Per ora lo piazzo qua Un euro E 45 centesimi Allora venticello si è tornato? Hai dimenticato qualcosa da comprare? 1 e 90 Allora qua ci potrei mettere la coca cola Così Liberiamo Vediamo A voi Ok raga 30 e 54 37 Buonasera signore Sono 23 e 60 Allora noi così raga Abbiamo liberato E poi potrei anche fare così Un momento Così ho proprio Un'intera sezione no? Abbiamo liberato Un po' Ecco a lei Che poi il vantaggio è Che qui ci va Un botto di coca cola Un botto di acqua Quindi non devo neanche tenere Le cose nello scaffale Non devo Cioè libero pure gli scaffali Perché già questo fa Da scaffale Questo mi già Già questo mi fa da scaffale Quindi libero pure gli scaffali Tenendo i pallet Certo non questi che Questo prende un mucchio di spazio Ma anche nello scaffale Prendo un mucchio di spazio Anche questo Quindi ci sta alla grande Anzi dovrei mettere sempre più pallet Delle bevande Dovrei togliere tipo L'altra cola La sprite Tutta roba che posso mettere In questi scaffali Pian pian pianino Se fa proprio così Pian pianino Famo proprio così Mettiamo tutto negli scaffali Eppure belli pieni Ah questo è messo al contrario Ok fine giornata Tutto a posto Allora E' salito l'olio di lesbi Di che? Ah questo 4 e 40 Ok raga E abbiamo anche parecchi soldi Che però sinceramente Come vi ho già detto Io sai che ti dico Altri due pallet Ok diciamo Comincio a far fatica Perché c'è Poco spazio Per tutti questi pallet Però Poi quando ci si allarga Però sinceramente Mi piace troppo L'idea Che stiamo liberando Questi frigoriferi E in più Non ho neanche problemi Di spazio Perché E' meglio E' molto 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 Meglio E' già Se è tornato Li mortacci 2 Aspetta Oh Bello No Dovrei fare Tutta Aspetta Facciamo così Va Fammi togliere un attimo Sta cassa Che mi sta sulle balle Va La sistemo meglio Facciamo una cosa Mettiamo Proprio Così Sezione Bevande E' più E' più bello Vedere Le bevande Messe Insieme Anche se Addia Verità Ma sono uguali No Mettiamo Coca Cola Vicino a Coca Cola Vicino a Coca Cola Oh Ragazzi Si E' da sistemare Meglio Però Però Porca miseria E' fantastico In più Ho liberato Un bel po' Di frigo E' veramente Cioè Questi tre pallet Costano più o meno Quanto un frigo Però almeno Poi ci va un botto Di 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 roba Qua Quindi Va bene Ragazzi Io direi che Concludo il gameplay Perché è durato Un bel po' Spero vi sia piaciuto Mi raccomando Commentate Iscrivete Lasciate un bel pollicione Su Ci becchiamo Ciao Alla prossima Alla prossima